Guido Guidesi, perché la Lega Nord è critica a questa legge di stabilità? La Lega Nord è critica con questa legge di stabilità perché è una legge di stabilità che aumenta ancora le tasse. Il Partito Democratico, coerentemente alla sua storia, decide di aumentare le tasse e ancora una volta di vessare tutti i cittadini. Tutti i cittadini tranne gli immigrati, che per loro è previsto un fondo, è previsto il bonus bebè che senza il criterio di residenzialità andrà a finire alle famiglie di immigrati. Questo è il Partito Democratico, che è il partito degli immigrati.